Ragazzi colpo pazzesco del Milan, un colpo preannunciato già da diverso tempo e finalmente è arrivato, ma noi di AC Milan Style lo diciamo già da tempo nei vari video di questo colpo che sarebbe arrivato di questo giocatore e oggi, stamattina, siamo stati i primi a dire di questo colpo, i primi in assoluto. Prima di cominciare come sempre però dateci credito visto che comunque diamo notizie affidabili e iscrivetevi al canale, mettete un pollicione in su se vi piace il video, attivate la campanellina e commentate su quello di cui stiamo per parlare oggi, in pausa pranzo. Dicevo il colpo è pazzesco, ha chiuso, finalmente Maldini è andato a chiudere, ma era già, ripeto, una cosa preannunciata, era una cosa già fatta. Il Milan chiude con Orighi, col giocatore, contratto di tre anni per 3 milioni e mezzo a stagione. È un colpo dal mio punto di vista fondamentale per il Milan. Molti hanno storto il naso, molti non ci hanno creduto, molti hanno detto ma no, non è quello che fa per il Milan. Io invece non ritengo che sia così, attenzione, poi parlatene con me, fatemi sapere nei vostri commenti cosa ne pensate, perché vi ricordo, ne parlavo stamattina anche con l'amico Cristian, vi ricordo che comunque da lì, dall'Inghilterra, sono arrivati persone vicino a noi, come Tomori, ok? Tomori non giocava lì, Tomori non giocava e cosa sta facendo adesso in Italia? Posso dire, possiamo dire che è uno dei migliori difensori che c'è? Possiamo dirlo, ok? Abram della Roma, ragazzi, Abram della Roma non giocava quasi mai, è venuto adesso in Italia, gioca alla Roma ed è sbocciato, è venuto fuori. Ma perché questo, ragazzi? Complice anche la differenza di mentalità e la differenza fra i vari campionati. In questo momento, mi duele dirlo, ma il campionato italiano non è A un campionato allenante, si gioca pochissimo e B non è un campionato che è all'altezza di diversi altri europei, come appunto quello tedesco, come quello inglese. Quindi un giocatore che viene da lì, seppur giochi poco, ma è anche logico che possa giocare poco perché davanti spesso ha dei campioni allucinanti e quindi è costretto a fare panca, in Italia inevitabilmente, quasi sempre, parlo del campionato inglese, sbocciano, fanno la differenza come è successo appunto con Abram e come è successo con Tomori. Quindi fidiamoci di Maldini e Massara perché secondo me il colpo è fantastico, il colpo ha un senso molto logico. Secondo me però qualcuno può dire, ma adesso arrivo Righi, il parco attaccanti è chiuso, non ne prendiamo più. No, non necessariamente. Uno, perché Righi è un attaccante arrivato a zero e si paga solo l'ingaggio, quindi il budget che abbiamo per il mercato rimane tale e si può spendere ancora. Due, perché a me sa tanto l'arrivo di Righi, il contratto già chiuso adesso, a parte per anticipare la concorrenza, perché non era cercato solo dal Milan, ragazzi. Righi l'ha cercato anche da tante altre squadre e anche italiane. B, perché si stanno usando l'addio di Ibrahimović, non lo do per certo, però, però, però. Quindi con l'arrivo di Righi, cioè Giroud e Righi, un altro spazio per un altro innesto, dal mio punto di vista c'è e si farà. Che sia un belotti a zero e quindi risparmiamo ancora sul budget a disposizione, non sul monte ingaggi sicuramente. Potrebbe essere che sia un altro attaccante, potrebbe comunque essere. Quindi non precludiamoci nulla. Il fatto che arrivi a Righi a zero non preclude l'arrivo di un altro attaccante, però è un Righi in più. Giocatore di 26 anni, forza esplosiva che può dare veramente tanto e io sono convinto, e ci metto la faccia, poi ne riparleremo settembre-ottobre, che farà la differenza. Io ne sono assolutamente convinto. Quanto meno è un inizio di qualcosa, no? È un inizio di calciomercato già adesso e non è poco, e non è poca roba. Non è assolutamente poca roba. Quanto meno iniziano in calciomercato. E finalmente prendiamo un giocatore a zero, ce li portano via tutti a zero. Finalmente anche noi prendiamo un giocatore a zero, che comunque ha un valore tecnico abbastanza importante. Fatemi sapere cosa ne pensate, come sempre. Aspetto i vostri commenti, sempre educati, mi raccomando. Noi ci sentiamo a più tardi. Forza Milan e benvenuto Righi. Possiamo dirlo sinceramente. Benvenuto Righi.